ok buongiorno a tutti io sono riccardo gervasi sales engineer per la parte wifi e wireless e vedremo oggi vi presenterò i prodotti rf elements e vi parlerò giusto un po di rf elements stando ovviamente entro i limiti iniziamo subito da quello che è il problema principale che rappresenta ad oggi il problema principale per le reti WISP che sicuramente è quello della gestione del rumore questo perché perché il rumore va a inficiare su quelle che sono le performance totali del dell'impianto è il rumore dovuto dall'utilizzo sempre più massivo di apparati radio e ma soprattutto anche dall'utilizzo di prodotti mal progettati ed impiegati e soprattutto installati eh con una scarsa eh con una scarsa attenzione magari molto spesso con eh con scarse competenze vediamo eh come rf elements ha lavorato per andare ad escludere appunto il rumore andare a ridurre le perdite e creare un prodotto eh per altissima scalabilità in questo slide eh potete vedere come viene generato il rumore da antenne normali eh infatti si vede nel eh riusciamo a vedere ad esempio in alto a sinistra nella nella parte della eh superiore sinistra eh come il oltre il lobo principale vengono generati anche i cosiddetti lobi secondari oltre che anche un'irradiazione nella parte posteriore dell'antenna nonostante ehm le radiazioni nei lobi secondari nella parte posteriore non siano abbastanza forti ehm in realtà questi vanno a causare del rumore radio ehm che appunto ripeto va a inficiare sulle performance del dell'intero sistema vediamo rf elements eh quindi in paragone rf elements come gestisce il le onde radio vediamo che sono ehm praticamente inesistenti i lobi secondari e tutto il tutta l'energia si va a concentrare su quello che il ehm su quello che il lobo principale le antenne appunto con lobi secondari e eh in radiazione posteriore in una situazione di punto multipunto e soprattutto di cositing vanno ad interferire con gli altri dispositivi creando appunto del rumore quindi con le antenne eh tra virgolette tradizionali avere un un impianto eh impostato in eh in cositing quindi con più settori che siano nostri o che siano magari di altri eh di altri wisp eh va a generare del rumore e va ad abbassare appunto le performance come vediamo nella parte destra della slide utilizzando i settori le horn eh o comunque prodotti rf elements si vanno ad eliminare i lobi secondari per cui si ha un sistema sicuramente a performance massime data l'assenza eh di rumore stessa nel primo progetto realizzato nel 2014 da eh RF elements prevedeva l'integrazione della radio direttamente nell'antenna eh questo per andare a eh eliminare completamente le perdite le cosiddette cable loss quindi le perdite dovute ehm all'utilizzo di cavi eh RF elements ha pertanto introdotto un nuovo sistema chiamato twistport twistport eh come vedete in questa animazione è un eh un'interfaccia che permette di integrare l'antenna eh ad una radio e queste radio possono essere appunto radio di terze parti ovviamente quindi da eh Mimosa a Cambium piuttosto che Obiquity ehm e anche altri brand l'altissima scalabilità eh la si vede appunto in questa slide perché prima di entrare in commercio le orne simmetriche i WISP potevano scegliere eh massimo se utilizzare tre o al più quattro settori ehm questo per via appunto del delle aperture dei lobi secondari che eh non permettevano installazioni massive invece con eh l'introduzione dei prodotti RF elements si ha una gamma abbastanza vasta eh di eh di aperture che permettono eh una una scalabilità molto alta per cui quello che vediamo in questo slide che eh fino a un po' di tempo fa parecchi anni fa non era possibile immaginare eh ad oggi diventa realtà quindi si possono vedere delle torri con dieci o anche più antenne eh per cui le orne le cosiddette orne diventano appunto una realtà quotidiana quindi non c'è un limite eh non esiste più il limite che esisteva diciamo in passato ehm perché grazie e lo vediamo in questa slide grazie alle varie aperture delle singole antenne eh si riesce a progettare una una torre con molto più di dieci eh molto più di dieci settori in questa slide vediamo il portfolio di RF elements i prodotti si dividono in eh nella prima riga vediamo i prodotti twistport quindi prodotti eh con ehm a cui è possibile in cui è possibile installare gli adattatori twistport che permette di integrare il radio eh praticamente di dei brand più conosciuti eh queste orne hanno un un'irradiazione simmetrica per cui eh partono dai trenta gradi fino ad arrivare ai novanta gradi con step di dieci gradi e irradiano ehm allo stesso modo quindi hanno la stessa apertura sia in verticale che in orizzontale a queste poi si affianca l'ultra orne che è un prodotto dall'efficienza molto alta che ehm permette di essere utilizzato sia in situazioni di punto punto o di punto multipunto a un'apertura di quindici gradi verticale e quindici orizzontale permette ehm anche appunto dei punto multipunto a distanza abbastanza alta dato il il guadagno di ventiquattro dbi. Nella seconda riga vediamo i prodotti carrier class quindi prodotti connettorizzati N tra cui anche l'ultra orne. Nella terza riga invece vediamo i nuovi prodotti che sono delle orne asimmetriche quindi dei delle orne sempre con la riduzione con l'eliminazione dei lobi secondari e dell'irradiazione posteriore che aprono trenta i vari modelli rispettivamente trenta sessanta e novanta gradi e hanno un'apertura maggiore sull'asse verticale quindi aprono venti gradi venticinque venticinque quindi questo permette ehm di coprire in maniera più uniforme e omogenea tutto il tutta tutta l'aria necessaria ehm necessaria appunto alla copertura. Nell'ultima riga vediamo invece i twist port adapter presenti sia per ubiquiti sia per microottico. per cammium mimosa e eh infine anche il TPA meno SMA che è un prodotto connettorizzato il ripisma quindi da poter integrare anche con radio che non fanno parte dei blend eh appena citati. Eh vediamo subito eh qual è il parametro ehm di cui bisogna tener conto nella scelta di un'antenna ed è sicuramente la beam efficiency. Eh la beam efficiency non è altro che il rapporto eh tra l'energia contenuta nel lobo principale e l'energia totale irradiata per cui è un rapporto ci dà un valore percentuale che va da zero a cento ovviamente più alto è eh questo valore maggiore sarà l'efficienza del del prodotto stesso. In una in un'antenna eh direttiva tra virgolette standard non RF elements si va all'incirca su un'efficienza del quaranta per cento per cui si ha il sessanta per cento di energia come vediamo in questa slide che viene persa nei lobby secondari. Eh stessa cosa per quanto riguarda i settori quindi in questo caso un'efficienza del cinquantotto per cento ma avremo poi un quarantadue per cento di energia persa eh sempre nei lobby secondari eh piuttosto che nelle radiazione posteriore. RF elements ad esempio nell'ultra orna ha addirittura un eh un'efficienza che va al novantanove per cento quindi sono prodotti per cui l'energia generata dalla radio viene tutta concentrata nel lobo principale. Eh qui vediamo una una comparativa tra tutte le varie settoriali oltre che una comparativa su eh le antenne direttive. Eh questo slide l'abbiamo vista prima utilizzando appunto prodotti con un altro efficienza con un'alta beam efficiency permettano di avere un'altissima scalabilità quindi permette di creare senza problemi delle zone ad alta densità. Quindi la beam efficiency è molto più importante rispetto ad altri parametri perché ci dà non solo un'informazione sul lobo principale ma ci dà un'informazione sul lobo principale rispetto a ehm all'energia totale quindi a tutta l'energia poi persa nelle lobby secondarie e nel nell'irradiazione posteriore. Per cui eh un'antenna ad alto più è alto la beam efficiency più l'antenna eh sarà prestante. Per quanto riguarda il valore della beam efficiency eh RF elements lo riporta nei data che potete trovare sul sito oltre ovviamente ai range di frequenza e guadagni e l'apertura sia verticali che orizzontali. Oltre questo RF elements eh tiene parecchio alla cosiddetta educazione eh per cui ehm produce veramente tanti webinar ehm in cui si possono apprendere eh le caratteristiche di una rete wireless quali possono essere problemi e ehm si possono anche sfatare determinati miti. Oltre questo c'è anche una community online eh dove si possono fare domande circa la progettazione piuttosto che la scelta di determinati eh prodotti ma per questo ovviamente eh ci siamo anche noi all Net Italia come distributori. Grazie a tutti. Grazie a tutti.